Allora l'articolo 3 della Costituzione sancisce chiaramente che tutti i cittadini hanno pari dignità chiedo un po' di silenzio presidente e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali in questa ottica ricordo che il mese di giugno è il mese dei pride in tutta la Lombardia Allora quello che noi stiamo chiedendo con questa mozione è un atto piccolo, un piccolo gesto che stiamo chiedendo a Regione Lombardia chiediamo in buona sostanza di illuminare la facciata di Palazzo Pirelli la notte del 25 sul 26 e la notte del 26 Io voterò contro questa mozione questa festa perché di fatto è una festa consentitemi talvolta volgare perché mi sembra una gran carnevalata dagli aspetti spesso volgari chiedono di avere gli stessi diritti degli eterosessuali fino ad arrivare, diciamole in maniera chiara, all'adozione da parte di una coppia omosessuale di figli e io su questo invece sono fortemente contrario sono fortemente contrario chi sono madre volgare io voterò contro chi sono madre io voterò io voterò contro io sono orgogliosamente eterosessuale volgare e chiudo dal vostro punto di vista sono una minoranza per me non sono una minoranza io affermo che queste persone hanno i miei stessi diritti hanno i diritti di tutti quella che voi definite un festival in realtà è una carnevalata in un momento tra l'altro dove forse le priorità sono altre volete concentrare tutto sul famoso DDL Zan una legge criminale che va contro la libertà di pensiero che va contro la libertà di parola secondo noi va difesa la famiglia naturale e sul fatto che un bambino abbia il sacrosanto diritto di avere un padre e una madre ma di cosa stiamo parlando oggi? no perché mi sa che avete letto tutta un'altra cosa vi siete fatti un film completamente diverso oh stiamo chiedendo ma stiamo impazzendo qua dentro perché stiamo chiedendo di colorare il pirellone punto non si è detto approviamo delle norme non si è detto facciamo delle leggi contro la famiglia naturale non si è detto approviamo dei diritti o altre cose perché quello non lo volete discutere in quest'aula l'abbiamo già proposto varie volte non lo volete discutere ma oggi il fatto che voi vi spaventate vi opponete tirate fuori le supercazzole per dire che non si può accendere una luce nel palazzo Pirelli per una manifestazione è follia pura ed è sintomo di dove siamo arrivati in regione Lombardia allora sull'ordine della lombardia aspetta l'ordine della lombardia sarò breve no 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 Mariani eeeh allora Mariani Mariani no Mariani allora volare Grazie a tutti.